Ciao a tutti, oggi andremo ad aprire 7 pacchetti dei calciatori panini Cominciamo Primo pacchetto Palomino dell'Atalanta Baselli del Torino Galabinov del Genoa Che sfortuna hai perso Lo stadio olimpico della Lazio Abbiamo già trovato anche quello della Roma E poi lo stadio Ciro Vigorito del Benevento Già due stadio, molto buono Mettiamo questo qua Che ha dei bei colori Secondo pacchetto Patrick della Lazio Verdi del Bologna Mertens del Napoli La maglietta dell'Udinese E linea nero verde Qui abbiamo trovato anche un altro giocatore molto buono Mertens Strinic della Samp Floccari della Spal Piana Monti dell'Inter La squadra La squadra della Fiorentina E la squadra femminile dell'Atalanta Andiamo con il quarto pacchetto Andiamo con il quarto pacchetto Andiamo con il quinto pacchetto Stragoscia Nani Pavoletti Pavoletti Hai vinto una bustina Sadik Ex Roma E la squadra del Verona Abbiamo vinto un pacchetto Meno male Della serie B Niente E i Seric Della Fiorentina De Paul Dell'Udinese Trotta del Crotone Che sfortuna Due Scudetti Cittadella e Cremonese E tre del Palermo Ecco Abbiamo parlato di serie B E del serie O Della serie B Ultimo pacchetto Isai del Napoli Berenguer del Torino Pellegri del Genoa Che sfortuna Lo Scudetto del Crotone E il Rampa di Lancio I quattro dell'Udinese Che ci mancano E di questo spacchettamento Sono soddisfatto E questo spacchettamento Si conclude qua Ciao a tutti